Non ascolta, mi fa tappa a Pescara, Piazza Salotto. Il prossimo 15 ottobre ad accogliere i cittadini ci sarà l'equip medica coordinata dal professor Claudio Capurale, direttore del reparto di Otorino, la ringoiatria dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, insieme alla misericordia al partner tecnico Istituto Acustico Maico. Diverse le associazioni che hanno aderito all'evento come la Lilt presieduta dal professor Marco Lombardo. Già da sabato 14 ottobre a partire dalle 10 sarà aperto il villaggio della prevenzione con la possibilità di effettuare screening uditivi e nel pomeriggio delle 14 alle 17 visite senologiche in collaborazione con gli specialisti della Lilt. Sarà due giorni in realtà straordinari, il sabato e il domenica saremo a Pescara a chiudere le tappe abruzzesi di questa straordinaria iniziativa che ormai da 14 anni porta gli ospedali in piazza affinché la gente, i cittadini possano incontrare il proprio medico e togliersi un po' quelle curiosità sul problema di udito. Un senso purtroppo troppo spesso trascurato. Sappiamo bene l'OMS lancia dei segnali d'allarme ormai sempre più insistenti circa questa patologia che ormai è definita invisibile perché è troppo spesso trascurata e perché molto spesso è stigmatizzata dalle comunità, dalle società. C'è sempre un po' di vergogna ad ammettere un problema che in realtà si risolve abbastanza facilmente. I numeri sono allarmanti, pensate il 12% della popolazione soffre di problemi di udito, in Abruzzo significa circa 180.000 persone. Le città già coinvolte nell'evento sono sul Mona, Lanciano, L'Aquila, Chieti e Vasto. In Italia sono oltre 7 milioni le persone con problemi di udito corrispondente al 12,1% della popolazione. Una persona su tre tra gli over 65, ma solo il 31% della popolazione ha effettuato un controllo dell'udito negli ultimi 5 anni, mentre il 54% non l'ha mai fatto. Proprio l'anno scorso, in occasione di un congresso che abbiamo avuto qui a Pescara, il focus era proprio su rapporti che esistono tra la presbiacusia e le malattie neurodegenerative. Quindi è estremamente importante fare prevenzione per i nostri anziani, in modo particolare perché in questo modo evitiamo che a causa dell'ipoacusia i soggetti che ne sono affetti si isolino e possano in qualche modo andare avanti nella loro patologia. Per cui è importante fare diagnosi innanzitutto e poi terapia, sia essa medica, chirurgica che protesica. Grazie.